Per me la pittura è un atto drammatico, è un atto drammatico funzionale alla società. Come sempre la pittura poi rende chiare ciò che era un concetto incipiente. Mi sono reso conto che non ero solo io orfano, ma che per una nuova articolazione del tempo siamo tutti orfani, nel senso che tutti noi ci siamo identificati con un soggetto sociale ed era questo soggetto che si faceva le grandi domande sul senso della storia e sul senso della vita. La pittura è espressione radicale dell'antitesi a questo tipo di società. Grazie. 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 Grazie.